Attenzione, state per connettervi con Radio Altra Musica, benvenuti a tutti e buon ascolto. Grazie a tutti. Sono le ore 19.38 minuti di martedì 19 gennaio e parte l'appuntamento numero 483 di Radio Altra Musica dal Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sessaurunca in provincia di Caserta, in compagnia di Andy Simonello e della migliore musica alternativa del XX secolo. Radio Altra Musica ogni martedì sera dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica, diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Vi ricordo che potete sempre trovare le registrazioni dei programmi precedenti su Facebook e su Youtube. Black Star è il 25esimo e ultimo album in studio del cantautore e musicista britannico David Bowie, pubblicato l'8 gennaio 2016, giorno del suo 69esimo compleanno. Come sanno ormai tutti, due giorni dopo, nella notte del 10 gennaio, Bowie muore nel suo appartamento di New York a causa di un cancro al fegato, con cui ha lottato per 18 mesi. Quando è uscito Black Star è saltato subito all'occhio e anche all'orecchio che i suoi temi principali erano la morte e in generale le difficoltà della vita. Rileggendo i testi dopo la morte di Bowie si sono trovati moltissimi riferimenti alla morte e alla sofferenza che prima erano passati quasi inosservati, poiché la malattia di Bowie non era di dominio pubblico, anzi lo sapevano in pochissime persone. Poco dopo che si è diffusa la notizia della sua morte, il produttore Tony Visconti ha fatto intuire che Black Star possa essere stato un regalo di addio di Bowie, preparato con molta attenzione in vista della sua morte imminente. Dopo due giorni dalla morte dell'artista, l'album esordisce al primo posto della UCAP Single Chart in Gran Bretagna, debuttando con una vendita di oltre 100.000 copie e viene certificato disco d'oro. L'appuntamento stasera di Radio Altra Musica, numero 483, sarà dedicato interamente all'ascolto completo di Black Star e alla lettura dei testi tradotti. Si inizia quindi col primo brano e l'omonimo Black Star, David Bowie, benvenuti a Radio Altra Musica. In the filler of our men, in the filler of our men, stands a solitary candle. In the filler of our men, stand a forcesare a vedere insieme al libro, In the filler of our men in the filler of our men, stand toida in the filler, you are mine. On the day of execution On the day of execution Wonder when I need a smile At the center of it all At the center of it all You are mine You are mine you are mine You are mine Grazie a tutti. 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 amico senza droga martedì davvero forte che la vagina vertiginosa fa impazzire i ragazzi giovedì la polizia cieca al denaro nel buco dal venerdì dove vado lunedì sono indifferente ai maiali e alla mostra di carlini sono seduto in un albergo di castagno chi farà casino con me ragazza amami guarda la ragazza meravigliosa con la sua bocca rossa fa l'amore ossessionata dal viso la giovane donna guarda le sue brutture dormendo alla stazione di polizia separa un vecchio uomo dal suo denaro guarda guarda la ragazza ragazza amami girl loves me david bovi cina so sound so titty up this mouth check say party up moods nanti vela set round on tuesday real bad dizzy snatch making all the homies mad thursday pop a blind to the polly in the hole by friday where the fuck did the monday go i'm cold to this kingdom park show i'm sitting in the chestnut tree who the fuck's gonna mess with me girl loves me Grazie a tutti. 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 E' tutto andato storto, ma si va avanti. Esaurirsi dalla rabbia non avrà mai fine. Sto cadendo. Non credere per un solo secondo che ti sto dimenticando. Dolor Desi, David Bowie. Grazie a tutti. 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 per concludere l'appuntamento numero 483 di Radio Altra Musica. Grazie a tutti. questo è il messaggio, questo è il messaggio che ho invito, questo è il messaggio che ho invito, a tutti. Away I can't give everything Away See more and feeling less Saying no with meaning yes This is all I ever meant That's the message that I said I can't give everything I can't give everything Away I can't give everything Away I can't give everything I can't give everything I can't give everything Away I can't give everything Away Away I know something's very wrong The pulse returns The pulse returns to prodigal sons With black owls' hearts With flowered mules With scalded eyes I can't give everything I can't give everything I can't give everything Away Away I can't give everything I can't give everything Away 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 I can't give everything Away I can't give everything I can't give everything I can't give everything To be honest I can't give everything No partner I can't give everything I can't give everything Erano i sette brani di Black Star, l'album Black Star di David Bowie, l'addio di David Bowie alla musica, l'addio di David Bowie alla vita e con I can't give everything away, l'ultimo brano è in onda, termina l'ascolto e la programmazione di Radio Altra Musica, Disconnessione. Sono le 20 e 26 minuti, qui a Radio Circuito Solare, termina abbondatamente in anticipo Radio Altra Musica, stasera è il numero 483, dedicato esclusivamente al nuovo album, l'ultimo album in assoluto di David Bowie, Black Star, credo che sia stato doveroso da parte di Radio Altra Musica fare questa dedica a David Bowie, vi ricordo che Radio Altra Musica è il programma del martedì sera dal Radio Circuito Solare in compagna di Andy Simonello della migliore musica alternativa del XX secolo, dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10, ma come vi ho detto stasera ho anticipato la chiusura, dal diretta radiofonica e dal diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare, come sempre troverete le registrazioni del programma su Facebook e su Youtube, detto ciò Andy Simonello vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione e vi mando al prossimo appuntamento con Radio Altra Musica, buona serata a tutti. Grazie a tutti!